sconcertante messaggio della madonna di trevignano romano 3 febbraio 2022 la mente dei politici è perfida e la terra tremerà amati figli miei grazie per essere qui e per aver risposto alla mia chiamata nel vostro cuore figli miei state vivendo i tempi peggiori del diluvio avete avuto tanto tempo per la vostra conversione eppure voi preferite il mondo preferite peccare spesso non avendo capito che un giorno sarete faccia a faccia con il mio gesù pregate figli affinché le vostre preghiere possano sviare ciò che di più perfido passa nella mente dei vostri politici aiutate mio figlio gesù con la preghiera la terra tremerà figli miei mettete tutto nelle piaghe di gesù prendete le mie mani e io vi proteggerò e vi porterò a lui figli miei pregate per la chiesa e per i santi sacerdoti affinché rimangano sempre fedeli al vero magistero della fede figli miei il tempo è finito per i malvagi e la misericordia sarà infinita per i giusti ora vi lascio con la mia materna benedizione nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen oggi tante saranno le grazie che scenderanno su di voi